Guarda qua Franca, guarda qua, guarda qua Meraviglia Ho detto 5 minuti ma Questo sono io Facevo uno degli angeli principali Alan, hai partecipato recentemente all'audizione per entrare a far parte del coro Cosa ti ha spinto a farlo? Eh beh, mi ha spinto innanzitutto l'arte del canto perché è una cosa bellissima Sono sempre voluto essere un po' e un po' condominato Ciao No, non ho la lanccia, ho la parte di piccoli barabinari.